Buongiorno, in questo video affronteremo due argomenti strettamente correlati. Il primo è relativo alle Fetch API. Le Fetch API sono API HTML5 che servono per effettuare richieste HTTP rispetto a un server. Le Fetch API agiscono quindi nel client, agiscono quindi nel browser e ci permetteranno di recuperare informazioni e passare informazioni dal front-end al back-end. Il secondo argomento che vedremo in questo video è strettamente correlato alle Fetch API e in particolare è relativo al fatto che nel nostro caso noi abbiamo due server in funzione. Ci sarà il server che esegue l'applicazione React, server il cui front-end avrà appunto da utilizzare le Fetch API per interrogare l'altro server che abbiamo, che è appunto il server Express che espone le Fetch API REST. Quindi in una prima parte di questo video vedremo le Fetch API che sono appunto API HTML5 e quindi utilizzabili anche al di fuori di React, anche in applicazioni web normali, con JavaScript classico, e andremo poi a vedere come utilizzare le Fetch API in un ambiente in cui abbiamo già un server che fa girare la nostra applicazione web e avremo bisogno tramite queste Fetch API non di fare chiamate HTTP rispetto al server che stiamo utilizzando ma rispetto a un server di terze parti come nel nostro caso quello relativo alle domande risposte o nel caso del laboratorio relativo ai film. Ma partiamo dall'Fetch API. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di caricare dati da un server di terze parti in maniera asincrona attraverso quindi richieste HTTP e in modalità tale da poter gestire anche molteplici richieste al bisogno. In quale contesto ci troviamo? Nel nostro caso particolare. Nel nostro caso particolare in questo momento cosa abbiamo? Noi abbiamo un'applicazione React che viene visualizzata e viene eseguita all'interno di un browser con cui l'utente può interagire e quello che idealmente vorremmo fare è fare delle chiamate HTTP in modo da poter recuperare dal nostro server API in Express, server che utilizza al suo interno un database SQLite, vorremmo poter connettere questi due componenti, l'applicazione React con server API, facendoli eseguire quindi in parallelo e recuperando per esempio l'elenco delle domande e delle risposte dal server, dall'API, visualizzarlo correttamente nell'applicazione React e a sua volta se aggiungiamo, cancelliamo, modifichiamo una domanda, una risposta, un qualcosa all'interno di React, inviare questa modifica anche a server. Tutto questo lo faremo, come vi ho accennato poco fa, attraverso utilizzando anche le fetch API di HTML5. Il completamento di tutta questa interazione tra il client, quindi la nostra applicazione React e il server, ci porterà via questo video, il prossimo video e anche tre ore nella settimana prossima. Come abilitiamo questa comunicazione, questa interazione? Come vi dicevo, l'abilitiamo attraverso la fetch che ci permette di eseguire chiamate HTTP e in React anche attraverso il look, useEffect, che ci permetterà di gestire i sideEffect in componenti React. UseEffect sarà argomento del prossimo video. Quindi, come possiamo scambiare dati in maniera sincrona tra un browser e un server che fornisce informazioni in formato col protocollo HTTP? Come vi dicevo, possiamo usare l'API Fetch, che è semplicemente un metodo HTTP che ogni browser moderno conosce e riesce a utilizzare in JavaScript. Di nuovo, le fetch API sono nello standard HTML5, nella famiglia di standard HTML5 e quindi non richiedono di installare niente, né sono specifiche per React o un framework in particolare. Le fetch API, di base, cosa hanno? Come sono fatte? È un metodo che ha come argomenti, come parametri, la URL della risorsa, quindi la URL a cui andare a fare la richiesta HTTP e eventuali parametri da passare in questa richiesta HTTP. E di default la richiesta sarà una GET, ma ovviamente è possibile anche gestire delle POST, delle PUT e gli altri metodi HTTP. La Fetch API è un metodo, quindi questo metodo Fetch, che ritorna una promise, quindi è asincrona e naturalmente ritorna una promise. Quindi noi non dovremo, utilizzando la Fetch API, andare a creare una nuova promise, perché è la Fetch stessa che restituirà una promise già fatta. La promise si risolverà una volta che l'operazione di caricamento, quindi una volta che la chiamata HTTP finisce. Questa promise può essere risolta in un oggetto di tipo RESPONSE, che permetterà di accedere ai dettagli della chiamata e della risposta HTTP e dell'eventuale contenuto del suo body, e la promise sarà rifiutata solo ed esclusivamente in caso di errori di rete. Questo vuol dire che se la chiamata HTTP non va a buon fine da un punto di vista del contenuto, quindi vorrei un elenco di film, ma il server per qualche motivo ha un problema e non mi restituisce l'elenco di film, mi restituisce una pagina bianca, un elenco bianco, oppure non è una richiesta autorizzata e quindi mi torna un 5C, un qualche tipo di errore, o è l'indirizzo, la URL non è un'URL valida e quindi un server mi ritorna 404, not found, in tutti questi casi la promise verrà risolta con successo e quindi avremo questo oggetto risposta. E quindi starà a noi prendere questo oggetto risposta e andare a vedere se la risposta HTTP, e quindi tutta la connessione HTTP, la comunicazione tramite HTTP è andata a buon fine, oppure no, da un punto di vista del contenuto. Mentre la promise verrà, come dicevo, rifiutata solo in caso di errore di rete, quindi il server per esempio non risponde per niente, oppure non si ha connettività di rete dal browser, dal computer su cui gira il browser. E qui c'è un esempio di fetch. Questo è lo stesso esempio, da una parte gestiamo la promise con un then, mentre dall'altra lo gestiamo con async e await. Sono, dato che la fetch ritorna una promise, tutto quello che abbiamo visto per gestire le promise continua ad essere valido e si può utilizzare. Vedete che in prima battuta la fetch è molto semplice, guardiamo la parte della wait che è un pochino più lineare nella lettura. Vedete, questo esempio fa una fetch, un indirizzo, example.com.exam.json e dato che questa è ritorna una promise c'è una wait. Ovviamente tutto questo deve essere all'interno di una sync, altrimenti non funziona. Quando la fetch a un certo punto riempirà questa response, che è quell'oggetto response di cui dicevamo prima, e se la promise è stata soddisfatta, risolta con successo, allora potremo per esempio recuperare il corpo json dall'interno di questa risposta e a quel punto stamparne il contenuto. Iniziamo a notare due cose. La prima è che non solo la fetch e il ritorno una promise, quindi abbiamo bisogno di una wait, ma anche che questo metodo .json, che andremo a vedere a brevissimo, a sua volta ritorna una promise. E quindi dovremo di nuovo aspettare che questa promise sia risolta e soddisfatta, in modo da avere poi le informazioni, il corpo json in questo caso, all'interno della variabile data. La seconda cosa che possiamo notare è che in questo caso non c'è nessuna gestione, in nessuno di questi due esempi, non c'è nessuna gestione del fatto che la promise non sia risolta con successo. Quindi sta a noi andare a vedere se questa promise si è risolta con successo, con un try catch nel caso di async await, oppure con un then catch nel caso della gestione delle promise con then appunto. Quali sono le proprietà di questo oggetto risposta, quindi di questo response che viene risolto dopo che la promise è andata a buon fine. L'oggetto risposta ha delle varie proprietà, le cui principali sono indicate in questo slide. C'è un oggetto .key, c'è una proprietà .key, che è booleano, e se è vero, vuol dire, quindi se è ok e è vero, vuol dire che la chiamata HTTP, la risposta della chiamata HTTP è stata di successo, quindi il codice di risposta è nella famiglia 2, 200, 201, eccetera. Se è false vuol dire che non è stato di successo, quindi il codice non è nella famiglia 200. C'è poi un response.status, un status.text, che ci dà appunto lo stato intero della risposta HTTP, header, response.headers, eventuali header HTTP della risposta, nel caso in cui ci interesse andare a recuperare qualche informazione passata non nel corpo, ma nell'header della risposta HTTP, response.url è la URL finale da cui arriva la risposta, che nella maggior parte dei casi sarà esattamente la stessa URL in cui andremo noi a fare la richiesta, ma in altri casi, per esempio dopo dei redirect, potrebbe anche essere diverso. Response.buddy invece è il contenuto, quindi è il body della risposta HTTP. Ora, noi di queste proprietà andremo sicuramente a usare spessissimo response.key per capire se la risposta ha avuto successo, quindi 200, 201 come status code, oppure no. Ogni tanto useremo probabilmente headers, se dovremo recuperare delle informazioni dall'header HTTP, per esempio, e sempre o quasi sempre useremo response.buddy. Ora, il response.buddy, notate che qui è scritto che il response.buddy è uno stream leggibile del contenuto del body, della risposta HTTP. Quindi il response.buddy è uno stream di informazioni. Come passiamo da uno stream di informazioni al corpo vero e proprio, la fetch ci mette, l'oggetto response della fetch ci mette a disposizione dei metodi, come per esempio questo .json, per recuperare le informazioni, se sappiamo che le informazioni nel body sono di tipo json. Altrimenti possiamo accedere direttamente allo stream e leggerlo passo passo. Qui possiamo vedere un esempio di come possiamo invece accedere agli header della risposta. Quindi dal nostro oggetto response, sempre ottenuto tramite promise, sempre ottenuto quindi aspettando che la promise sia risolta, dagli headers possiamo fare appunto get e recuperare le header per tipo. Quindi noi sappiamo per esempio che una richiesta o una risposta HTTP può avere un content type specifico, un content type application HTML, un content type text, un content type JSON e quant'altro. E quindi potremmo andare a verificare che il content type sia esattamente quello che ci aspettiamo. Oppure prendere la data, se dovessimo effettuare qualche verifica particolare. Qui mostra anche, per esempio, response.status, che in questo caso è lo status code, e response.status text, che è il testo corrispondente allo status to code. Quindi nel caso di 404 il testo è ovviamente not found. Notate che il response.ok ci dice solo se la risposta è ok oppure no. Quindi se il codice HTTP risultante è nella famiglia 200. Se noi poi volessimo andare a vedere esattamente qual è il codice risultante, sia nel caso che la response sia ok, sia nel caso in cui non lo sia, possiamo andare a utilizzare il response.status, che ci dà appunto il codice HTTP corrispondente e corretto per quella risposta. Come vi dicevo, la promise della fetch è solo rifiutata per errori di rete, quindi errori relativi alla connessione. mentre ogni altro valore dello status HTTP, 200, 404, 500, eccetera, ritornerà in ogni caso una promise che viene soddisfatta, che viene risolta con successo. Quindi come possiamo gestire gli errori, non ovviamente di rete, ma gli errori relativi alla comunicazione, quindi al contenuto HTTP, che noi andiamo alla richiesta che andiamo a fare, dobbiamo sicuramente controllare il response.key. Se il response.key è true, sappiamo che la risposta è nella famiglia 200 e quindi abbiamo già una buona idea di qual è la direzione che dobbiamo prendere. Se il response.key è falso, invece potremmo andare a controllare se è un 404, se è un 500, quindi in base al tipo di risposta, in base al tipo di stato, potremmo prendere delle decisioni diverse. Quindi se è un 404, magari è la URL che abbiamo inserito nella richiesta fetch che non è corretta, se è un 500, invece è un errore interno del server e quindi è un qualcosa su cui magari possiamo interagire, possiamo agire poco dal punto di vista del front-end. Quindi possiamo controllare il response.key, possiamo controllare lo status, possiamo anche controllare il content type dal leader per verificare se ci aspettiamo un json e il content type non è un json, di nuovo c'è un qualcosa di probabilmente sbagliato nella nostra richiesta, un qualcosa che non sta funzionando come dovrebbe e possiamo fornire un catch per altri tipi di errore. E qui c'è un esempio, un esempio che mostra cosa fare nel caso in cui il response non sia ok. Quindi non è, ci aspettiamo un 200.key, non otteniamo un 200.key, otteniamo un 400, otteniamo un 500 o altro. E allora, se il response non è ok, possiamo lanciare un errore con lo status, il testo della status della risposta e poi andare a intercettare questo errore. Allo stesso modo possiamo prendere il content type dal leader e verificare che questo type sia application json. Se non è un application json, e noi ovviamente ci stiamo aspettando un application json, in maniera analoga a quello che facevamo per response.key, potremmo lanciare un nuovo errore che verrà quindi poi intercettato dall'ultima catch di tutto questo elenco. Se non lo scrivessimo come async await, avremmo un try per gestire questo caso e un catch per gestire quest'altro caso. La fetch ha poi delle opzioni, ha un oggetto, oltre l'url indicata come primo parametro, ha un oggetto opzionale come secondo parametro che ci permette di definire eventuali proprietà ad associare a quella richiesta HTTP, come per esempio il metodo ad HTTP. Quindi la fetch di default fa una richiesta get all'indirizzo indicato nella risorsa, ma attraverso questo oggetto init potrebbe anche definire che il metodo non è get ma è put o è post o è delete. All'interno di questo oggetto init possiamo anche definire un e degli header nel caso in cui dovessimo passare queste informazioni nella richiesta HTTP e un body nel caso in cui la nostra richiesta HTTP abbia con sé un corpo da passare. Ci sono poi altre proprietà, uno è il mode che identifica il modo in cui questa richiesta viene effettuata, quindi course, no course, oppure solo same origin, quindi la richiesta debba necessariamente essere nello stesso dominio HTTP su cui sta girando l'applicazione del browser e altre proprietà, per esempio le credenziali per mandare cookie con la richiesta oppure signal per eventualmente terminare in un momento specifico la richiesta di fetch per esempio se ci sta mettendo troppo tempo ma non è ancora andata in timeout. E qui c'è un esempio di questo oggetto init dove vedete che questa fetch in questo caso è fatta a una URL specifica che non è indicata qui ma sarà un oggetto, una variabile creata prima. Questa fetch è un post, ha un header che è content type application JSON e ha come body il JSON, quindi JSON.stringify, se ricordate dal passato, da qualche settimana fa, un oggetto JavaScript che è già pronto per essere convertito in formato JSON. Quindi questa fetch eseguirà un post, una chiamata HTTP di tipo post con questo header passando questo oggetto come corpo nella richiesta a una URL specificata. A quel punto tramite un metodo .den che non è riportato qui potrà questa porzione di codice potrà poi gestire l'eventuale risposta che arriva da questa richiesta. Parlando di risposta che arriva dalla richiesta, quindi l'oggetto di tipo response di cui parlavamo prima, c'è da notare una cosa specifica della fetch, che il body, quindi il response che arriva dalla fetch, può essere consumato solo una volta da questi metodi che sono presenti in slide. Quindi la fetch ci torna una promise contenente un oggetto che è la risposta HTTP, su cui possiamo andare a vedere se è ok oppure no, se lo status è 404, eccetera, come ho visto finora. A un certo punto, se vogliamo accedere al corpo di questa risposta, la fetch ci mette a disposizione una serie di metodi per farlo, tra cui i due che useremo di più sono .text e .json che prendono il corpo della richiesta e li trasformano o in una stringa, .text, oppure in un oggetto JavaScript ottenuto dal parsing del corpo quando il corpo della risposta è in formato JSON. Ora, la cosa da tenere a mente è che questi metodi ritornano a loro volta una promise, quindi bisognerà o aspettare con await async oppure aspettare tramite dem catch e questi metodi possono consumare il body solo una volta. Questo vuol dire che se noi facciamo response.text a riga 4 poi non possiamo andare a chiamare dopo response.json perché una volta che il corpo è stato consumato e convertito in questo caso in stringa quel corpo non si può più quel corpo della risposta non si può più andare a parsificare in nessun altro modo. Avremo una stringa dovremmo lavorare con quella stringa. Stessa cosa se avremo un JSON. Abbiamo un JSON lo con response.json parsifichiamo in un oggetto JavaScript e a quel punto il body è stato consumato e non possiamo più eseguire nessuno di questi altri metodi per andare a rileggere il body. Avremo per esempio a quel punto un oggetto JavaScript e allora potremo manipolare l'oggetto JavaScript che ci ritorna da questo response.json ma non andare a eseguire un altro response.text o un altro response.json sul body. Quindi due cose da tenere a mente sulla lettura del response.buddy. Uno torna alla promise anche questo. due ci sono una serie di metodi che si possono utilizzare per esempio per ottenere un parsing automatico del JSON e un oggetto JavaScript corrispondente ma questi metodi si possono utilizzare una sola volta. Quindi il body della risposta si può consumare una sola volta. Nel caso in cui avessimo bisogno di eseguire fetch sequenziali quindi una dopo l'altra possiamo tranquillamente farlo ovviamente usando async await è più leggibile il codice si può fare anche con den ma è suggerimento quindi quello di usare async await e come lo facciamo? Lo facciamo tranquillamente prendiamo otteniamo una fetch aspettiamo la risposta quando la promise è risolta prendiamo l'oggetto response estraiamo i dati per esempio tramite il metodo .json dalla risposta aspettiamo che la promise sia soddisfatta a quel punto avremo un nostro nuovo oggetto JavaScript users e per esempio possiamo andare a prendere il primo utente e con quella informazione possiamo fare un'altra fetch e un'altra gestione della risposta di questa seconda fetch per recuperare per esempio le informazioni degli utenti quindi possiamo tranquillamente usare una fetch dopo l'altra una volta che abbiamo ottenuto tutte le informazioni che ci serve nel caso in cui ci servisse invece eseguire fetch in parallelo quindi non una fetch aspettare la risposta recuperare informazioni dalla risposta e poi farne un'altra possiamo ma quindi appunto in parallelo quindi richiedere informazioni a un server a altri server fare chiamate HTTP in generale in parallelo quindi quando non abbiamo informazioni che dipendono l'una dall'altra lo possiamo fare utilizzando promise.all dato che la fetch ritorna una promise possiamo tramite promise.all eseguire tutte le promise in parallelo aspettare che tutte vengano soddisfatte e a quel punto processare le informazioni in base all'ordine che l'applicazione se immaginiamo un'applicazione React comunque un'applicazione front-end abbia bisogno per visualizzare o manipolare quelle informazioni questo chiude il discorso sulla fetch la fetch come vi dicevo è una libreria è un metodo è un API HTTP standard scusate HTML standard disponibile senza installare nient'altro in tutti i browser è ovviamente semplice ci sono alternative più librerie alternative più complicate con più funzionalità disponibili e seppur noi useremo fetch la fetch API all'interno del corso volevo farvi notare che esiste per esempio Axios è una libreria molto comune che ha una serie di funzionalità aggiuntive rispetto alla fetch come per esempio la possibilità di impostare un timeout della risposta realizza una conversione JSON della risposta automatica quindi senza bisogno di chiamare metodi aggiuntivi e fornisce un metodo più veloce per separare le risposte di richieste parallele invece di usare quindi promise.all e fare fetch a mano e andare poi a gestire le risposte manualmente e Axios funziona anche bene in Node.js mentre la fetch essendo una API di HTML5 non è inclusa all'interno di Node in quanto Node non è lo stesso ambiente di javascript del browser quindi questa è una libreria più avanzata più più performante da un certo punto di vista nel senso che ci permette di fare cose o in automatico o ci permette di fare cose che con la fetch non sono possibili da fare o sono più complicate da fare e quindi se volete questa è una libreria che si può pensare di utilizzare ovviamente va installata separatamente perché non è una libreria standard noi come vi diciamo useremo comunque la fetch API per fare le nostre operazioni perché per quello che abbiamo bisogno di fare è più che sufficiente ok chiuso il discorso sulla fetch prima di fare un esempio pratico del suo utilizzo diamo un'occhiata a come possiamo gestire l'interazione client-server in React quindi ricollegandoci alla figura che vi ho mostrato prima quella in cui avevamo un'applicazione React e un server API separato e volevamo abilitare l'interazione tra i due vi ho detto che per farlo ci serviva la fetch e poi ci serviva l'uso effect che è un hook di React che vedremo nel prossimo video ci serve un terzo diciamo componente un terzo elemento concettuale quantomeno il fatto che noi abbiamo nel nostro caso l'interazione tra React e i server in realtà due server uno è il server React quello che lancia c'è l'applicazione React quindi il localhost 5173 e l'altro è il server express che nel nostro caso è il localhost 3000 quindi noi cosa abbiamo fatemi vedere se c'è una figura sì noi cosa abbiamo noi abbiamo in prima battuta il nostro server React quindi sulla porta 5173 e abbiamo il nostro server express che nel nostro caso girano entrambi sullo stesso computer su due porte diverse ma potenzialmente potrebbero anche essere su computer diversi su reti diverse eccetera e poi noi abbiamo il nostro server React che a sua volta mostra all'interno di un browser l'applicazione React e quindi ci permette di avere i bottoni e fare altro però noi quando sviluppiamo in React stiamo in questo momento sviluppando in questo pacchetto in cui abbiamo un server di sviluppo quindi questo è un server React di sviluppo che è comodo per sviluppare e quando apriamo un browser e andiamo all'indirizzo localhost 5173 vediamo la nostra applicazione React e la fetch dove andrà a funzionare ad essere eseguita la fetch sarà eseguita nel browser quindi noi quello che vorremmo è che questo browser attraverso la fetch vada a chiamare questo vado a fare chiamata HTTP con questo server express sulla porta 3000 e non con questo perché questo in realtà noi non abbiamo praticamente controllo su questo server React che gira sulla porta 5173 noi lo lanciamo con npm run dev e ci viene pubblicato all'interno di un browser l'applicazione React e quello è tutto quello che facciamo non abbiamo altro tipo di controllo su questo server React e invece quello che vorremmo è andare a chiamare l'API del nostro server express quindi fare delle chiamate HTTP per chiamare le nostre API sul server express in modo che poi il browser quindi React visualizzi eventuali informazioni quindi noi abbiamo un problema di due server perché abbiamo in effetti il server di React e il server di express perché questo è un problema questo è un problema perché questi due server quindi la fetch HTTP di default la fetch e di conseguenza la fetch di default utilizza il concetto della same origin cosa vuol dire? vuol dire che un browser può fare chiamate HTTP solo solo a solo allo stesso dominio quindi in cui il browser sta girando quindi se questo browser sta girando sulla porta 5173 sul localhost 5173 questa fetch può di default fare richieste solo a localhost 5173 fare richieste con successo solo a localhost 5173 non può far richieste a localhost 3.000 perché 3.000 è una porta diversa rispetto a 5173 e quindi è un dominio un server completamente diverso ora come possiamo abilitare invece questa fetch a fargli fare richieste non a 5173 come di default ma a anche altri server quindi localhost 3.000 ma piuttosto anche a un indirizzo completamente diverso che non sia localhost lo possiamo fare in due modi diversi nel nostro caso il primo che è quello che useremo nel corso è continueremo a mantenere i due server quindi il server react di sviluppo che ci fornisce l'applicazione react e il nostro server express che ci fornisce l'api e abiliteremo qui corso quindi la possibilità per questo server di ricevere e rispondere chiamate che sono cross origin quindi non same origin per cui da localhost 5173 posso solo parlare con localhost 5173 ma posso anche ricevere richieste da indirizzi che sono diversi da localhost 3000 quindi cross origin una richiesta che è da localhost 5173 va quindi a localhost 3000 nel nostro caso il secondo caso che è riportato in queste slide ma che non vedremo e rimane se volete per vostro uso futuro è quello di fare un build di tutto questo ottenere quindi un'applicazione react in html css e javascript e prendere questo build dell'applicazione react e farla ostare direttamente da questo server cosa cambia in questo caso cambia in questo caso che questa applicazione react girerà sarà fornita da localhost 3000 nel nostro caso e quindi la fetch andrà direttamente a chiamare il server che genera la pagina html quindi direttamente il server che ospita l'applicazione react questo ovviamente richiede ci fa andare da un caso di due server a caso di un server solo che fa entrambe le cose ma perdiamo il server di sviluppo per cui se dobbiamo fare delle modifiche in react poi dovremmo ricompilare rifare il build dell'applicazione json diciamo plain json e riandare a aggiornare il risultato nel server express questo build più express quindi in questo caso single server è quello che però si fa per esempio se dovessimo fare il deploy della nostra applicazione react in un caso di deploy non dobbiamo più modificare niente all'interno dell'applicazione siamo in una versione stabile quindi possiamo prenderla e pubblicarla all'interno dell'unico server che per esempio contiene l'api o dell'unico server che ci interessa e quindi lasciar perdere il server di sviluppo che come dice il nome è appunto di sviluppo quindi noi andremo a vedere il problema del server pensandolo soprattutto dal punto di vista del course allora questa è l'architettura concettuale che ho anche brevemente disegnato prima ma giusto per ricordarci per riprendere il disegnino mio di prima su questa slide noi abbiamo un browser che avrà al suo interno ovviamente una fetch e che sarà la nostra applicazione con react che viene servito dal react server che è un server appunto di sviluppo che è quello che ci lancia il tool che viene annunciato quando scriviamo npm run dev questo react server ovviamente non esegue l'express e non ci permette di fare alcun tipo di modifica come dicevo prima noi però abbiamo anche se ricordate il disegno che abbiamo fatto nel che era presente nelle slide sulla fetch noi quello che vorremmo è che il browser vada a interrogare direttamente il nostro API server che è un server express e questo server express non capisce JSX e non sa che cosa sia un componente react ma capisce solo HTML, CSS e JavaScript standard eventualmente se venisse fornito da quel punto da quel tipo da quel punto quindi noi effettivamente abbiamo due server uno è il server di sviluppo di react e uno è il nostro server express e quello che capita è che quando lanciamo npm run dev attraverso una richiesta HTTP iniziale viene lanciato la nostra applicazione react nel server nel scusate nel browser e poi attraverso la fetch noi vorremmo andare a recuperare delle informazioni da questo server API in express quindi noi abbiamo effettivamente di nuovo due server uno che ci fornisce l'applicazione react nel browser e l'altro è quello che ci fornisce le informazioni che servono all'applicazione react ma non servono a questo server per fare alcun tipo di operazione questo ovviamente porta con sé questa architettura a doppio server porta con sé dei vantaggi e dei svantaggi per esempio in ambito di deployment è meglio avere due server separati o è meglio avere un server che faccia tutto nel nostro caso abbiamo un server che è un server di sviluppo quindi ci permette di fare il debug ci permette di essere rilanciato ci ovviamente ci dà delle opzioni in più che se dovessimo costruire un'applicazione react fare il build dell'applicazione react e hostarla su un altro server perderemmo ovviamente abbiamo delle limitazioni di sicurezza sulla parte di cross origin perché ovviamente abbiamo una fetch in un browser sul localhost 5173 che cerca di andare a parlare tramite HTTP con un qualcosa che non è localhost 5173 ma nel nostro caso è localhost 3000 avere due server in realtà ci fornisce anche delle opportunità che è quello di separare i carichi per cui abbiamo un server che si preoccupa di gestire l'applicazione react e un server totalmente diverso che può essere anche ospitato da un'altra parte nel mondo o su un'altra macchina eccetera e quindi abbiamo ogni server che fa una cosa diversa e ha un compito specifico e quindi ha un carico specifico inoltre l'altra opportunità è che possiamo utilizzare qualunque tipo di API server per la nostra applicazione react quindi nel nostro caso noi andremo a interrogare il nostro server express quello che abbiamo creato noi ma se noi avessimo un API server che ci fornisce le informazioni delle previsioni del tempo noi potremmo utilizzando lo stesso meccanismo andare anche a interrogare l'API delle previsioni del tempo quindi anche se è un qualcosa che non abbiamo fatto noi e su cui non abbiamo controllo come vi dicevo abbiamo due possibili soluzioni la prima è quella di mantenere due server separati e permettere quindi alla nostra fetch di andare a parlare col secondo server attraverso questo abilitando le cross origin request e l'altra è quello di fare il build della nostra applicazione react vedete come file statici quindi html css e plain javascript e far sì che express il nostro server express hosti sia le route quindi i nostri json sia la nostra applicazione react quindi la nostra html più css più plain javascript come vi dicevo noi andremo come dicevo a vedere e utilizzare questa funzionalità in quanto questa richiede di fare il build di compilare l'intera applicazione react fare il build e copiarla proprio fisicamente i file all'interno del server express quindi questo può essere comodo in ambito di produzione in quanto il bundle è appunto un bundle di produzione ma in fase di sviluppo non tanto quindi noi useremo questa questa metodologia questa soluzione all'interno del corso e andando avanti in quanto ci permette di mantenere entrambi i server e ci permette di avere le funzionalità di sviluppo a disposizione in quanto noi andremo comunque a manipolare ancora a cambiare la nostra applicazione react come dicevo prima in queste slide c'è anche tutta questa parte qui per cui se a un certo punto vi servirà o vorrete sapere come fare un bundle di produzione dell'applicazione react per avere un unico server è un qualcosa che potete guardare che ci sono le istruzioni in queste slide ora come impostiamo il nostro setup sul doppio server di nuovo noi abbiamo un server react di sviluppo e un server api http che è il nostro server express che sono hostati in maniera separati che hanno different host o nel nostro caso è lo stesso host perché è local host ma nel nostro caso hanno differenti porte quindi sono separati sono diversi il browser riceve l'applicazione react da il react application server che è il server di sviluppo e invia le chiamate le richieste http all'api server quindi il browser riceve l'applicazione react dal primo server e invia le le richieste di aggiornamento di dato al secondo server cosa dobbiamo fare per per mantenerci in questa in questa situazione dobbiamo prima di tutto eseguire i due server web in parallelo quindi lanceremo il nostro progetto react con npm randev lanceremo il nostro progetto express il nostro server con node o nodemon index.javascript o server.javascript o comunque volete chiamare il file che lancia l'applicazione express e quindi saranno due progetti in due cartelle diverse in due directory diverse o addirittura su due computer diversi che saranno da lanciare in parallelo ovviamente in questo caso abbiamo il problema del cross origin in quanto questo è in quanto le chiamate fetch arriveranno da localhost 3000 ma saranno scusate questo è in realtà 5173 arriveranno da localhost 5173 ma saranno dirette a localhost 3001 quindi un'altra origin non same origin un'altra origin quindi dovremmo passare da un cross origin resource sharing che è questa sigla per course perché di default le security policy prevengono di caricare di html scusate proprio dei browser in html http javascript e quant'altro prevengono di caricare dati da altri server quindi questo è qualcosa che un browser di default non fa bisogna dirgli di fare e il server dall'altra parte deve accettare questo tipo di richiesta vantaggi e svantaggi di questa soluzione con due server beh sicuramente è facile sviluppare è scalabile perché le richieste sono mandate al server appropriato e abbiamo bisogno se abbiamo bisogno di sviluppare di modificare le applicazioni avendo due server separati ci permette di gestirli in maniera separata e opportuna e solo è l'unica possibile configurazione se le API e HTTP sono fornite da un server di terze parti le previsioni le API delle previsioni del tempo di cui esemplificavo prima e come svantaggio abbiamo bisogno di configurare le cross origin cores sul nostro server API quindi in express e abbiamo bisogno di url assolute dal fetch per accedere all'API perché ovviamente è un server diverso è un indirizzo diverso è una porta diversa e configurare corse in maniera errata potrebbe portare a dei rischi di sicurezza per esempio un accesso non desiderato all'API quindi mal configurato cosa vuol dire mal configurato vuol dire che per esempio è troppo la configurazione corse sul server è troppo permissiva troppo lasca e quindi permette a chiunque di fare qualunque tipo di operazione anche magari su quelle route che invece sarebbe bene non fossero accessibili come si configura corse su server in express bisogna fare due cose prima di tutto installarlo poi importarlo e a quel punto con app.use corse utilizzare il middleware che viene messo a disposizione in maniera analoga a quanto abbiamo fatto con altri middleware di express in produzione leggiamo questa nota è bene usare in produzione se si usano diversi domini per react e l'API server non bisogna mai permettere richieste corse da ogni origine ma sempre specificare quale origin in questo caso qui stiamo dicendo qualunque richiesta http arrivi da qualunque indirizzo da qualunque browser eccetera va bene è abilitata e quello che questa nota dice che in produzione invece di lasciarlo aperto a tutti magari è bene ristringerlo solo a localhost 5173 in quanto la nostra applicazione react sarà solo un'applicazione react che dovrà accedere al nostro server e non qualunque tipo di dominio qui c'è un esempio il nostro API server avrà quindi la configurazione course e vedete che l'unica modifica oltre all'import è questo app.use course e nell'applicazione react noi avremo un file che possiamo chiamare api.javascript e questo javascript semplicemente andrà a fare una chiamata http a localhost 3000 che è questo server slash courses che è questa route e questo a sua volta eseguirà quello che deve eseguire il nostro server recuperare l'elenco dei corsi e ritornerà indietro con le informazioni necessarie ok quindi l'atto react la modifica da fare è praticamente quella di ricordarsi nella fetch di usare url assolute lato express dobbiamo configurare installare npm install course e configurare il suo utilizzo tramite app.use course eventualmente con dei parametri in questa parentesi le slide poi continuano su come fare il deploy di un build react all'interno di un server che come vi dicevo è eventualmente lasciato a voi se siete interessati in quanto non lo copriremo durante il corso e non sarà richiesto per l'esame ok prima di andare a vedere come fare tutto questo in react facciamo un primo esempio usando l'esercizio che è già su github come appunto esercizio per provare questo course e il suo funzionamento quindi l'esercizio 12 che è il primo di questi due ci dice creare un client semplice quindi non react quindi html css javascript per consumare una delle api offerte da server quindi creare un'applicazione un progetto che si chiama simple application che utilizzi html javascript e la fetch che abbiamo visto per ottenere la lista di tutte le domande dall'api server in express sviluppato non la scorsa settimana ma nella settimana 4 e poi aggiorno anche la versione su github aggiornare corsi impostare corsi in maniera appropriata su server ok quindi quello che ci serve è un'applicazione un nuovo progetto che si chiama simple application che quindi non utilizzi react che vada però a fare le chiamate http verso questo server e utilizzando corsi quindi vuol dire che vogliamo metterci nel caso di due server quindi da una parte noi abbiamo il nostro qua server che ho messo qui che è lo stesso server che avevamo da dalla settimana 4 quindi quello che abbiamo realizzato in aula insieme per interrogare le risposte e le domande e poi abbiamo react question and answer che in questo momento non ci interessa ci servirà nel prossimo video e quello che possiamo fare è andare a aprire un terminale e creare un nuovo progetto node quindi npm init e possiamo chiamarlo quindi simple application eh scusate no devo prima creare una cartella ok quindi fatemi creare una cartella che chiamiamo simple application che è il nostro esercizio e poi andiamo dentro simple application e inizializziamo lì dentro un progetto che chiamiamo simple application lasciamo tutto di default e a quel punto dentro simple application avremo il nostro package.json qui dentro dato che vogliamo avere un server che fornisce la pagina htp installeremo express che ci servirà per appunto visualizzare e creare la nostra pagina http e cosa andremo a fare qui dentro andremo a creare il nostro index.mjs file come abbiamo fatto in passato possiamo importare express da express e const app uguale express const port uguale 5173 diamogli la stessa identica porta che avrebbe il server di react così una volta che impostiamo course sul nostro question answer server è già impostato con la porta corretta e a quel punto diciamo app.use express.static e gli diamo la cartella corrente per gestirlo in modo che qui possiamo andare inserire direttamente il nostro index.html e diciamo che quando chiamiamo il server sulla root quindi slash abbiamo la nostra richiesta e la nostra risposta come callback e cosa facciamo quando ci viene chiamato la root facciamo res.send file che file mandiamo mandiamo il nostro file index.html dove lo mandiamo lo mandiamo al browser che a quel punto sarà in grado di di leggerlo e di processarlo in quanto un file html e poi ci serve app.listen per lanciare il server sulla porta e poi il messaggio da lanciare quanto lanciamo il server che potrebbe essere server ready ok questo è esattamente express come l'abbiamo visto finora con la differenza che appunto definiamo una cartella statica come l'intera cartella del progetto e a quel punto mandiamo il file index.html che è quindi un file statico al server cosa mettiamo nella index.html beh teniamolo semplice per quello che ci serve ci serve un html ci serve ovviamente un head e all'interno dell'head potremmo mettere un titolo che potrebbe essere esempio fetch quindi un'applicazione minimale e poi qui nel body potremmo andare a mettere un header di primo livello che si chiama testing fetch per esempio e un paragrafo che ha come id result e basta e questo paragrafo da cosa verrà riempito? questo paragrafo verrà riempito da un file javascript che sarà quello che chiamerà la nostra fetch quindi script defer type module così possiamo evitare di scrivere strict mode e chiamare anche questo file javascript mjs src uguale app.mjs a quel punto cosa ci serve? ci serve creare un altro file che chiamiamo app.mjs e quindi tutto questo è preparazione in un certo senso qui in questo app.mjs è dove facciamo la nostra fetch quindi creiamo un metodo una funzione main che facciamola async perché all'interno avremo una fetch che richiede una promise quindi possiamo usare await e cosa facciamo? il testo dell'esercizio ci chiedeva chiedere l'elenco di tutti i l'elenco di tutte le domande da server API quindi const response uguale await fetch quindi qui niente da installare fetch a che cosa? fetch al nostro server qaserver il nostro server qaserver è localhost sulla porta 3001 quindi http due punti localhost due punti 3001 e l'elenco di tutte le domande era una get su API questions quindi slash API slash questions dato che una get è già il comportamento di default quindi non dobbiamo specificare nessun parametro a questo punto possiamo controllare se la risposta è ok quindi se è nella famiglia 200 e se noi guardiamo l'API o andiamo a leggerle vedrete che possiamo ricordare che rispondeva con un JSON question con 200 e in caso di problemi invece rispondeva un 500 quindi in caso se tutto sia posto response.ok a quel punto possiamo prendere i dati e dobbiamo fare await response.json perché consumiamo i dati come JSON anche questo ritorna una promise quindi dobbiamo aspettare che la promise sia fulfilled a quel punto abbiamo i dati e possiamo document andare a manipolare il DOM get element by id results e per esempio mettere come inner text direttamente i dati che abbiamo ricevuto dal server ok quindi facciamo una fetch a questo indirizzo se la risposta è nella famiglia 200 quindi va tutto a buon fine prendiamo il corpo JSON e lo mettiamo in una variabile data dopo aver aspettato che la promise sia fulfilled e andiamo a prendere direttamente questo oggetto JavaScript così com'è e lo andiamo a mettere come testo all'interno della string anzi fatemi proprio mettere il testo invece che il JSON quindi prendiamo proprio il testo e andiamo a inserirlo qui quindi il testo vorrà dire che noi vedremo aperta graffa id uguale eccetera 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 ora se noi lanciamo questo quindi node index punto mjs il server è ready quindi se noi apriamo Chrome e andiamo su localhost 5173 abbiamo il nostro esempio di fetch e ovviamente non sta facendo niente perché non sta facendo niente perché ci dice connection refused fail to fetch il server ha risposto fail to load resource questo perché perché stiamo facendo una chiamata a localhost 3001 ma non abbiamo lanciato il server quindi mentre questo è in esecuzione apriamo un altro terminale a fianco vedete qui c'è il nostro il nostro server per la nostra applicazione semplice qui c'è il nostro server con qua server installiamo tutto e lanciamo node questo si chiama server punto mjs quindi lui parte al localhost 3001 se noi facciamo refresh cosa succede succede che qui non compare ancora niente ma ci viene detto accesso al fetch di localhost 3001 apri question dall'origine localhost 5173 è stata bloccata dalla policy course no access control lower origin header è presente sulla richiesta risorsa richiesta e quindi failed e non va avanti questo perché appunto è cross origin stiamo partendo da un dominio localhost 5173 e vogliamo raggiungere un altro dominio localhost 3000 e non abbiamo abilitato course nel server quindi quello che dobbiamo fare è non chiudere questo simple application e andare in server e anche stoppare server e abilitare course come abilitiamo course installando innanzitutto course e una volta che l'abbiamo installato possiamo importarlo per esempio qua import course from course e poi nei middleware scrivere app.use course ora questo app.use course ci permette di ovviamente accettare qualunque tipo di richiesta http che arrivi se noi vogliamo specificare meglio quali sono le opzioni possiamo per esempio creare un oggetto che si chiama course options che è un oggetto javascript e andare a riempire questo oggetto javascript e poi passarlo al middleware in maniera simile a come Morgan qui riceve dev come livello di logging cosa possiamo dire qui? possiamo dire che noi questo course funziona solo per le richieste che hanno una specifica origin quindi localhost 5173 e quindi se qualcosa non ha localhost 5173 semplicemente continua a non funzionare come in questo caso qua ora nel nostro caso dovrebbe perché è 5173 ma se noi cambiassimo la porta dovrebbe smettere di funzionare e poi possiamo anche mettere un'altra opzione che ci verrà poi utile con react option che si chiama option success status che vuol dire che 200 che vuol dire che anche quando viene fatta una richiesta sulle opzioni la risposta da parte del server sarà 200 ok ok? quindi questo è quello che ci serve quindi queste sono opzioni diciamo setup per course e questo è invece il middleware che ci serve per abilitare course quindi setup and enable course a questo punto se noi lanciamo il server di nuovo facciamo refresh di questa pagina vedete che l'errore sparisce e in effetti qui ci viene mostrato ci viene mostrato il testo che arriva dal server quindi le nostre domande che era javascript meglio che python e quanti studenti il corso di applicazioni web ha con data, email di chi ha fatto la domanda, id eccetera quindi tutte le informazioni che avevamo cosa succede? lato server niente di particolare continuiamo a vedere che arriva una get da API question quindi continua a funzionare e di qui non abbiamo nessun tipo di logging perché non abbiamo mai abilitato da una parte perché non abbiamo mai abilitato Morgan in questa simple application dall'altra perché queste operazioni vengono fatte da questo client che in effetti non ci dà più nessun tipo di errore questo non... se aggiorniamo non ci dà più nessun tipo di errore ok? quindi questo chiude questo video su come configurare Express nel prossimo video abbandoneremo questa nostra simple application e andremo a modificare la nostra React QA in modo da poter includere questa stessa fetch che abbiamo qui ma prendere le risposte e invece di metterle come testo all'interno di un elemento HTML andarlo invece a utilizzare all'interno di React e del suo stato quindi non dovremo più modificare i server in quanto abbiamo già messo la porta 5173 a posto quello che dobbiamo fare prima di usare la fetch e introdurre un altro hook React che è useEffect e che sarà appunto argomento del prossimo video e quindi